Utilizzava sempre lo stesso modus operandi, rubava una macchina utilitaria e poi scippava giovani donne in difesa in strada, trovando subito spazio per la fuga, ma il suo piano aveva una lacuna importante, appunto la serialità. E così i carabinieri, dopo l'ultimo episodio di furto con strappo avvenuto venerdì sera a Biceglia i danni di una donna, hanno arrestato un 45enne molfettese, già noto alle forze di polizia per gli stessi reati. Quello avvenuto venerdì era solo l'ultimo di una lunga serie di episodi, alcuni dei quali avvenuti anche a Molfetta. I militari hanno così ricostruito l'identikit del criminale e sempre a Molfetta sono riusciti a rintracciarlo. Inutile il tentativo di fuga del 45enne a bordo proprio di un'auto rubata poco prima a Biceglia. Per lui sono scattate le manette, ora dovrà rispondere dei reati di furto e furto con strappo. A bordo della vettura c'era una borsa anche essa rubata poco prima. Autore furtiva sono stati restituiti e legittimi proprietari per il 45enne molfettese. Intanto si sono aperte le porte della casa circondariale di Trani.